Salve, sono proprietaria dell'appartamento al secondo piano di un condominio. Al terzo piano c'è una famiglia, affittuaria, con tre bambini che oltre ai rumori molesti a ogni ora lanciano olio e oggetti dal balcone recando danni a me e all'inquilino sotto di me. Ho sporto anche una denuncia perché abbiamo paura ad affacciarci dal balcone. Abbiamo chiesto lo sfratto al proprietario ma dice di non poterlo fare perché pagano regolarmente. È vero? Grazie mille per l'interessante domanda e la risposta è no. Forse infatti il proprietario non sa che lo sfratto si può fare non soltanto per morosità ma anche per inadempimento contrattuale, quindi anche per il mancato rispetto del regolamento condominiale da parte del conduttore o comunque delle regole del buon vicinato. Anzi, io direi che nel suo caso il locatore dovrebbe assolutamente inviare al conduttore molesto una diffida e poi, se nulla cambia, iniziare le pratiche per lo sfratto. Questo perché il locatore è responsabile del comportamento dell'inquilino e dei danni che ne possono derivare agli altri condomini, se ne è a conoscenza e non fa nulla per porvi rimedio, come nel suo caso. E può quindi essere condannato a risponderne in solido con il conduttore se un giudice dovesse decidere per un risarcimento danni in favore dei vicini. Molto bene, questo è tutto. Cosa ne pensate di questa legge? È giusta o andrebbe cambiata? Come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi e mi scuso se non riesco a rispondere a tutti. Alla prossima!